Ciao a tutti sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. L'attore de Il Paradiso delle Signore, Emanuel Caserio può finalmente esultare dopo mesi di grande attesa, il suo ritorno è stato deciso. Manca sempre meno al via di una nuova stagione della soap opera de Il Paradiso delle Signore. L'amatissimo sceneggiato televisivo italiano tornerà a far compagnia al pubblico nella sua versione daily. Un settimo appuntamento attesissimo così come sono attesi gli attori protagonisti. In queste settimane tutti sono anche tornati a lavoro sul set per dare il via alle riprese dei nuovi appuntamenti. Tante le conferme e tra queste quelle degli attori Emanuel Caserio, interprete di Salvatore Amato, Alessandro Tersigni, che presta il volto a Vittorio Conti, ed infine Roberto Farnesi, volto di Umberto Guarnieri. In questi giorni è stata anche diramata la prima sinossi ufficiale con le prime anticipazioni. Inoltre una nuova indiscrezione sembra anche confermare la data di messa in onda dei nuovi episodi che prenderanno il via a settembre. Emanuel Caserio, finalmente c'è la data, il ritorno su Rai 1, Il Paradiso delle Signore tornerà presto a far compagnia al pubblico del primo canale della rete televisiva di Viale Mazzini. In questi giorni la conferma è arrivata non solo dai social con gli attori che ogni giorno pubblicano nuove foto o video dal set. La stessa Rai ha infatti certificato il ritorno della Sophie in occasione della presentazione dei palinsesti ufficiali della prossima stagione. L'amato sceneggiato tornerà con la sua versione daily tutti i pomeriggi a partire dalle 15. 55 su Rai 1 subito dopo il consueto appuntamento con Oggi è un altro giorno. Inoltre alcune indiscrezioni sembrano anche confermare la data ufficiale, il primo episodio della settima stagione del Paradiso delle Signore è previsto per il prossimo 12 settembre. Una notizia attesissima dal pubblico che da diverse settimane ormai deve fare i conti con la pausa estiva della SOP. Val 12 settembre quindi torna il Paradiso e questo vuol dire che invece sei sorelle, attualmente in onda nella stessa fascia oraria, andrà incontro al primo stop della stagione. Dovrà poi decidere la rete come agire anche perché al momento non è ancora stato confermato il ritorno del Paradiso per una ottava stagione. Il colpo di scena potrebbe quindi in realtà essere dietro l'angolo ed arrivare in ogni momento. Per quanto riguarda la settima stagione intanto sono arrivate le prime indiscrezioni. Al centro ci saranno ancora le storie di coloro che lavorano e ruotano intorno al grande magazzino milanese di Vittorio Conti. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Grazie per aver guardato l'intero video.